Buongiorno e benvenuti da Ranghetti Auto, io sono Rocco, oggi andremo a vedere un Citroen Jumper, un L2 H2, quindi un tetto medio, passo medio, un veicolo del 2017 cilindrata è un 2.0 da 130 cavalli, ha percorso 90.000 chilometri. Adesso daremo un'occhiata alla parte esterna per poi vedere la cabina e il cassone interno. Partiamo come sempre dal frontale dove troviamo i gruppi ottici alogeni, come allestimento un pacchetto business, monta delle gomme quattro stagioni, la regolazione elettronica degli specchietti retrovisori, carrozzeria in ordine, normativa di appartenenza Euro 6 e arriva direttamente da Citroen Italia, quindi è un veicolo comunque ufficiale. Logicamente essendo un veicolo usato segnalo sempre qualche segnettino di carrozzeria, magari nel video non si vede però ecco lo segnaliamo sempre. Come portata a 13 quintali, adesso finiamo questa panoramica esterna, poi passiamo agli interni. Partiamo dal lato guida, l'allestimento business viene completato dai vetri elettrici e la regolazione elettronica degli specchietti, bracciolo centrale del sedile lato guida, i tessuti come potete vedere sono molto belli, la regolazione lombare in profondità di altezza del sedile lato guida, sul volante troviamo i comandi audio, i comandi del bluetooth e i comandi vocali attivi. Inoltre dispone del cruise control e del limitatore di velocità. In parte centrale troviamo la radio touchscreen con ingresso usb e ingresso aux nella parte del cassetto portoggetti basso, climatizzatore elettronico manuale e anche l'aiuto alla discesa. Questi sono i due sedili centrali e lato passeggero. Asso diamo un'occhiata anche al cassone, il vanno di carico, tutta la pannellatura è in legno, sotto il cassone di carico c'è la ruota di scorta a dimensioni normale, come lunghezza di carico abbiamo sui 3 metri 10 circa 308, il passo ruota siamo sui 140 centimetri, la larghezza totale interna di 180, mentre per il carico abbiamo 178 di passaggio e l'altezza totale interna dalla base al tetto praticamente abbiamo sui 190 centimetri, 191 centimetri. Abbiamo ancora un'occhiata all'interno di carico. Il veicolo è già in pronta consegna. Questo è lo sportello lato passeggero che qui come potete vedere le plastiche sono in ordine, non ho particolari segni da segnalarvi. In conclusione, come sempre, vi invito a visitare il nostro sito internet ranghettiauto.com dove troverete tutte le informazioni del veicolo, il numero di targa, il numero di telaio, i nostri recapiti telefonici, gli indirizzi mail per scriverci. Per qualsiasi informazione contattateci e come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e ci vediamo alla prossima presentazione. Grazie. 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 Grazie.